Io volevo essere trader, cioè ragazzi io volevo fare la trader nella vita, ma chi se ne frega di laurearmi se poi questa laurea non mi permette di fare la trader e quando mi sono accorta che purtroppo non c'era un percorso che mi avrebbe portato a fare la trader, non c'era un percorso che poi mi dava in mano una laurea di trading e quindi mi sono detto ok per arrivare qua non mi serve l'università, ho bisogno di altro e allora vado a cercarmi quell'altro che mi serve e ovviamente mi sono formata tantissimo da autodidatta, ho fatto tantissimi studi proprio direttamente su grafico, la mia passione ragazzi era enorme, enorme, era qualcosa di enorme, quindi io sapevo che sarei riuscita ad arrivare a questo obiettivo, non c'erano piani B ragazzi, se io non l'avessi dovuto abbandonare, siccome mi piaceva così tanto, l'avrei dovuto abbandonare soltanto perché magari non ci riuscivo e per me sarebbe stato un fallimento enorme, io non abbandono una cosa perché non ci riesco, l'abbandono per altre motivazioni, perché non mi interessa più, perché sono presa da altro, perché è stato un hobby passeggero, ma dopo ormai quasi dieci anni in questo mondo io al decimo anno posso dire di amarlo ancora di più dell'anno 1 ed è stata la scelta più bella che io potessi fare, ma perché lo, cioè come mi è stato possibile farla? Capendo bene quali erano i miei perché verso questa attività, non erano i soldi, io avrei potuto accettare di fare, ecco chiedetevi questa cosa, io avrei potuto accettare di fare trading per il resto della mia vita ad uno stipendio diciamo medio italiano, anche per 1200 euro, piuttosto che per la stessa cifra andarmi a trovare un lavoro fisso e lavorare per qualcun altro, perché la mia passione verso il trading era qualcosa di così grande che non vedeva neanche più la parte economica e questo poi mi ha permesso di veramente dal giorno alla notte, anzi dalla notte al giorno successivo, fare un salto assurdo, perché le percentuali erano sempre le stesse percentuali, ma i conti cambiavano e quando i conti diventano a 6 cifre, lì cambia tutto, è la percentuale che facevi sul conto a 4 cifre un po' di anni prima, la rifai sul conto a 6 cifre, lì ti rendi conto di quanto quella scelta sia stata la scelta più bella che tu avessi mai potuto fare, ma è stata una scelta staccata dal denaro, che poi per forza di cose porta al denaro, ma tutto ciò che viene scelto per passione, tutto ciò che appunto viene scelto per passione perché lo si vuole davvero e poi ciò che effettivamente può andarci a fruttare del denaro, non può essere il contrario, noi non possiamo andare a scegliere qualcosa per il denaro e farci fruttare denaro, può durare poco, pochi anni, perché poi passeremmo una vita altamente infelice. Come reagivi quando vedevi le persone intorno a te che non vedevano bene quello che facevi pensando che perdevi tempo? Cosa pensavi? Allora, devo dire che me ne sono sempre sbattuta abbastanza. Io ragazzi ho un brutto difetto, molto brutto, che rispetto alle persone che mi hanno sempre circondata nelle scuole, durante i periodi scolastici, sto per dire una cosa molto brutta, molto brutta, io mi sono sempre sentita superiore, non perché fossi più bella, avessi cento ragazzi in miei piedi, perché non era quello il caso, anzi, ma perché io vedevo costantemente accettare la mediocrità dalle persone intorno a me e io non lo facevo, mai, mai. Io ero sempre quella che se una cosa non mi stava bene parlavo, in modo sempre rispettoso ed educato, ma non ho mai accettato la mediocrità e mi vedevo circondata da persone mediocre. E io mi sono sempre detta che c'era di più nella vita, secondo me, c'era di più, quindi io non stavo a discutere per quel voto che poteva essere un punto in più, un punto in meno, pensare di rifiutare quel voto di quella materia e con questo non sto dicendo che sia una cosa mediocre farlo, ma io ero focalizzata su altro, ero focalizzata su questo lamentarmi di questo voto, questo lamentarmi di questa cosa e poi non fare nulla non può essere il resto della mia vita. E se io lo avessi accettato lì sarebbe stato il resto della mia vita. Le persone che mi circondavano, che facevano una vita di questo tipo, sono le stesse che oggi lavorano da dipendenti, lavoro corporate, diciamo, e che sono continuamente lì a farlo e a lamentarsene. Quindi il parere delle persone che mi circondavano me ne fregava meno di zero, perché mi sono sempre detta, tu che mi stai giudicando in questo momento, che mi stai dicendo questa cosa, cosa stai facendo nella vita? Chi sei tu? Io sto ascoltando un consiglio di una persona che ha una media di 30 all'università, ma non ha mezzo centesimo di risparmio da parte, non ha neanche idea di che cosa siano gli investimenti e il suo unico obiettivo è quello di prendere 30 a tutti gli esami per poi andarsi ad infilare in un lavoro da dipendente per il resto della sua vita. Con tutto il rispetto è una cosa che piace, a me non piace, e io non avrei mai potuto accettare un consiglio da una persona così. Perché non vogliamo le stesse cose, non accettate mai consigli da chi ha una vita come voi non la vorreste. È inutile che accettate il consiglio da mamma e papà se mamma e papà fanno una vita che voi volete cambiare, se voi volete cambiare quello che hanno fatto loro. È veramente inutile, perché state seguendo consigli per poi diventare come loro. Quindi io mi isolavo. Io mi ricordo che tutto il tempo dei mezzi che prendevo per andare in università, ci mettevo un'ora e mezza ogni giorno di andata e un'ora e mezza di ritorno. Mi isolavo con podcast, libri, interviste. Io mi isolavo con le mie cuffie nell'isolamento del rumore e andavo avanti a podcast di... no, podcast, interviste di Warren Buffett, podcast di chi aveva dei fondi molto importanti, libri di Ray Dalio. Quella era la mia realtà. E quando mettevo piede in università io mi ripetevo io non sono mediocre, io non sono mediocre, questa è mediocrità e io non sono mediocre. E questo ha fatto sì che io possa essere oggi arrivata dove sono, che tra l'altro per me è nulla in confronto a dove voglio essere un domani, ma che mi permette, mi ha sempre permesso di rimanere sui miei passi e capire veramente che cosa io volevo. Quindi io penso che alla base poi di tutto il discorso che abbiamo fatto questa sera ci sia il capire che cosa uno vuole veramente. E il fatto di sentirsi diversi e anche migliori degli altri non è per forza una cosa negativa, cioè sfruttatelo a vostro favore. Se vi sentite così, sfruttatelo a vostro favore, esatto. Non è che uno vuole sembrare sbruffone, ognuno deve coltivare il proprio orto e diciamo il proprio in generale. E quindi se a me il fatto di sentirmi superiore a chi mi circondava mi ha portato qua, ma ben venga, va benissimo. Poi è chiaro che mi rendo conto che ognuno ha la propria vita, ognuno ha i propri interessi e ognuno è fatto a modo suo e io non sono nessuno mai, indipendentemente dalla mia posizione, per giudicare gli altri. Ma sono qualcuno per poter dire io mi sento così rispetto a questa persona, perché io quello che a questa persona non lo voglio. Io non voglio diventare così, non voglio fare questa vita qua. Tante persone che appunto mi hanno derisa, questo succedeva soprattutto al liceo, oggi mi contattano per gestirgli i soldi e io non rispondo neanche, ragazzi. Tanti contatti li ho anche bloccati. All'università già venivo vista in modo diverso. All'università mi ricordo che mi stimavano molto per quello che facevo e infatti mi sentivo sempre un alieno. Tanta gente si avvicinava a me per capire di più del trading e questa cosa io l'ho anche un po' patita perché mi rendevo conto che non avevo veri e propri amici là dentro, ma tanta gente che si avvicinava per altro. Però ecco, il discorso è che se questa è l'attività che vi piace, ma vi piace veramente, vi deve piacere che questo discorso magari vi ha fatto muovere qualcosa dentro, vi ha fatto dire cavolo sì, sì, è questo che io voglio. Allora questo è il segnale che vi dovete concentrare veramente soltanto su questo. Ovviamente con cognizioni di causa, ovviamente consapevoli di come voi dovete gestire la vostra vita, non vi sto dicendo lasciate il vostro lavoro assolutamente, ma questo è un segnale che dovete investire di più in questo. E se questo significa dover dire per un po' ciao ciao agli amici, non vederli la sera, se significa chiudersi in casa per un po' di tempo, se significa mettere da parte l'hobby che avete, fatelo. Perché questa cosa vi ripagherà e un domani poi potrete averne sette di hobby. Però non state col piede in più scarpe se questo è veramente quello che volete fare. Se poi è un discorso economico dietro, questo è tutto un altro paio di maniche, tutto un altro discorso, a quel punto non siete realmente interessati al trading e quindi fareste anche bene uscire da questo webinar perché stiamo parlando due lingue diverse. Questo discorso è più motivante di Tony Robbins, fighissimo, adesso mi metto anch'io a fare i seminari come lui, bellissimo. Ecco, Tony Robbins è un altro che io mi mettevo a palla in cuffia. Io mi seguivo tutti i suoi discorsi, ce ne sono alcuni che io so a memoria, anche perché poi, adesso non voglio dilungarmi troppo, già mi sono dilungata abbastanza, ma certe volte bisogna costruirsi il proprio ecosistema. Vivere di immersione, immergersi totalmente in quell'attività, che non è per forza immergersi nei grafici basta, ma immergersi in tutto ciò anche che contorna quell'attività, che vi stimoli, che vi faccia ricordare chi siete voi, ma soprattutto chi volete essere. Io vivevo di cuffie, sempre. Questo è stato il modo mio di sopravvivenza, non a caso io frequento veramente poche persone perché ho proprio bisogno di sentirmi stimolata da chi frequento e non sono più all'università quindi non posso più vivere con le cuffie nelle orecchie. Però ecco, pensate se il trading è veramente quello che volete, perché se è quello che volete, sapete come agire voi dentro di voi, lo sapete che cosa dovete fare, lo sentite, perché lo sentite quando magari state facendo backtesting o siete su un grafico e lo staccate per fare qualcos'altro, ma voi sapete dentro di voi che cosa volete fare in quel momento. Veramente ragazzi, se il trading è quello che voi volete fare perché avete un fuoco dentro che vi scalda, che sentite proprio che questa volete che sia la vostra vita, indipendentemente dai guadagni, quelli poi arrivano in un secondo momento. Buttatevi a capofitto in questo, perché credetemi che è il regalo più grande che vi potreste fare, è l'investimento più grande che potete fare a voi stessi. Io non ringrazierò mai abbastanza la Martina che ha deciso di lasciare l'università e non ringrazierò mai abbastanza la mia scelta di isolarmi da tutti i consigli di chi mi vuole dare consigli, che poi adesso alla resa dei conti vengono a cercarli da me i consigli. Esatto, il tutto comunque dipende dalla propria situazione, età, che a famiglia non può dedicare 360 al trading. I risultati arrivano molto lentamente. Verissimo, verissimo. Infatti come dicevo prima, ognuno deve anche calibrare il tutto sulla propria esperienza e sulla propria situazione. Quello che si può fare però è, nel tempo libero, fare una full immersion. Quindi se io, per esempio, faccio trading ma anche lobby di giocare a padel, ok? Faccio per dire. Purtroppo ragazzi per un po' di tempo ci sarà il sacrificio, a padel non ci andate e vi dedicate al trading. Perché aver famiglia è un lavoro, non significa non avere tempo effettivo per dedicarsi al trading. Anche tre ore al giorno, tre ore al giorno ci abbiamo tutti ragazzi, tutti. Anche che sia dormire tre ore in meno ogni notte. Io l'ho fatto per anni, avevo la sveglia alle quattro, l'ho avuta per anni. Fatelo. Vi mettete una sveglia veramente alle quattro. Ogni giorno della vostra vita, anche weekend per un anno. E voi avete tre ore al giorno, se non di più, per un anno. Quindi fatevi il conto, 365 o 366 per tre, di ore dedicate al trading. Immaginate fra un anno dove potete essere e fra due dove potete essere. Considerato che più fate le cose, più andate veloci, più quelle tre ore poi varranno come sei, come nove, come dodici. Non ci sono tanto scuse sotto questo punto di vista. Ci sono storie diverse, ci sono tempi diversi che ognuno di noi può dedicare, ma ognuno di noi ha il tempo per farlo. La mattina abbiamo tutti comunque la possibilità di spostare la sveglia prima di un'oretta, un'oretta e mezza, due ore, anche tre ore. Ripeto, io l'ho fatto per anni, avevo la sveglia alle quattro per poi andare in università e dedicarmi tutta la giornata all'università, agli studi. Ma quelle tre ore sacrosante, appena sveglia, il mio massimo focus è la prima cosa che io vedevo la mattina, prima ancora di Instagram, prima ancora dei miei genitori, prima ancora di chiunque, erano i grafici. E questo mi ha permesso oggi comunque di arrivare qua. Indipendentemente dalla situazione che ognuno ha, abbiamo tutti quell'ora, quelle due ore, quelle tre ore da poterci ritagliare durante la giornata. E lì subentra la scelta. Lì subentra la scelta di voler fare quella determinata cosa o no. È lì che poi capiamo quanto teniamo quella cosa. Quindi pensateci a questo. Perché penso che di tutti quelli che siamo qua stasera, il 98% ha la possibilità di fare una scelta di questo tipo. Il restante due magari può avere delle difficoltà, ma poi anche lì possiamo lavorare su tutto. Però chiedetevi quanto davvero lo volete.